buongiorno a tutti e benvenuti a questa video analisi settimanale come si può vedere partendo come d'abitudine dal cambio euro dollaro la situazione sembrava facilmente destinata a un ritorno verso il livello di 1 10 70 cioè la parte alta di questo ampio range di negoziazione che ha avuto un prima e un dopo come si può vedere bene graficamente ebbene però il mercato sembra per ora non volerne sapere abbiamo assistito venerdì a una seduta che sembra più raccontare l'ipotesi di un ritorno in quell'area intorno a 1 0 7 l'arco circa cioè quest'area intermedia che non propedeutica a un ulteriore rialzo questo dipende anche da una serie di dati usciti nella sessione di venerdì con i pmi come dire in deciso peggioramento in europa si sono indeboliti anche negli stati uniti insomma c'è stato questo contesto e se andiamo per contrasto a verificare sul dollar index abbiamo invece quindi un movimento di rialzo cioè il dollaro si rafforza in generale rispetto a tutta la truppa di valute con cui si confronta in questo indice andiamo a vedere subito dopo i rendimenti i rendimenti sono infine scesi nella sessione di venerdì raccontando di ancora un po di corsa all'acquisto di titoli di stato decennali come vediamo però rimangono nell'alveo di un trading range bisognerà vederli andare sotto 3 70 per come dire uscire fuori sconfessare la lateralizzazione delle ultime due quasi tre settimane per poi magari vederle ritornare su un livello di supporto come il 360 situazione molto simile anche per quanto concerne l'europa dove addirittura abbastanza ferocemente il bund si è portato da un rendimento di circa due e mezzo per cento sino a sfiorare i due 30 lo vediamo bene anche l'italia con il suo btp ha visto rendimento addirittura in seduta andare sotto il 4 per cento per poi chiudere lì intorno andiamo a vedere invece le commodities col petrolio che continua a lateralizzare sulla parte bassa del suo range bis diciamo così cioè qui c'è un range del piano alto quello di quei 10 dollari tra 72 e 82 poi c'è il range del piano basso che vedi minimi intorno a 67 con 64 come ulteriore supporto ebbene abbiamo avuto un ennesimo test praticamente dal risupporto si vede qui poi reazione siamo comunque sotto 70 e stiamo a vedere l'oro l'oro si è indebolito diciamo così nella settimana in corso anche se venerdì ha avuto un colpo di coda è ha tentato di rientrare diciamo così nell'area di lateralizzazione più recente due anche qui le aree di lateralizzazione la più alta 1980-2060 quella più bassa 1980-1930 diciamo anche profila poco sopra ora noi siamo appena lì sotto con questa chiusura di oggi però come dire in qualche modo bisognerà capire che cosa può succedere anche stante i fatti accaduti in russia l'argento invece è sicuramente più debole dell'oro e come si vede ha rotto un importante supporto lo vediamo qua e come dire si rivolge ora verso il basso come vedete per i volumi sono anche un po in calo quindi bisognerà vedere e capire che cosa può succedere chi invece dopo i buoni movimenti recenti da proprio un segnale un po di fine corsa di questo ciclo di rialzo è il rame il rame che dopo il test dell'area 360 3 si di largo circa 360 aveva trovato una reazione significativa andando in sequenza a bruciare tutte le resistenze successive lo vediamo fino a quando non è arrivata nei pressi di 396 chiare spinto ogni velleità e ora sta tornando indietro 377 375 potrebbe essere l'area del primo supporto utile che troverà sulla sua strada passiamo ora dare un'occhiata agli indici di borsa dove abbiamo diciamo così o partiamo dagli indici arabi scusate asiatici dove si vede che il nickey dopo un po di campo base ha deciso per ora di ritracciare leggermente in maniera più pesante ritraccia l'ansang e questo è un dato di fatto e poi veniamo all'europa qui la settimana scorsa io mi ero un po sbilanciato quel pattern di fine settimana mi sembrava un po particolare non è casuale che abbiamo avuto probabilmente molte sedute tutte quasi le sedute consecutive in europa contraddistinte dal colore rosso lo vediamo bene in sequenza mercati che sono scesi e che si sono indeboliti però senza che ci siano stati volumi eclatanti lo si vede qui senza che ci sia stato un contesto particolare l'unica cosa che la settimana si è chiusa con questi pmi molto più bassi anche delle aspettative degli analisti e quindi staremo a vedere sicuramente un impatto c'è si muove male anche il nice composite che torna indietro e rompe supporti diciamo che sono stati resistenze fino a pochi giorni fa poi violati e ora di nuovo sotto il dow jones lo vediamo qui anche si conferma all'interno di un range dove non è mai riuscito per bene a superare la parte bassa quindi questo range con ogni tanto qualche libertà di fare uno spike che si è preso nel periodo però questo è un trading range che dura da oltre praticamente da otto mesi quindi un trading range molto lungo complice anche diciamo la ricomposizione del suo indice scende parecchio anche il Russell 2000 lo vediamo qua che ritorna nei pressi di quell'area dei 1820 lo vediamo che è quell'area dove poi si fanno i giochi perché è figlia della lateralizzazione precedente e anche qui stiamo a vedere rientriamo invece diciamo nell'ambito dei due indici principali ritraccia anche il nasdaq ma nelle ultime tre sedute fa tutto il contrario di tutto e poi lo nega quindi assolutamente incertezza lo si vede bene qui un po più chiara la situazione delle semplici 100 che coinvolgendo non solo i titoli della tecnologia ma anche il resto avuto dei più chiari è stato una stimola di ribasso il pattern era stato proprio questo lo vedete qui e insomma poi ha dato un po luogo a movimenti di ritorno ora evidentemente è molto molto difficile è molto molto difficile capire che cosa può succedere la prossima settimana ci avviamo verso fine mese ci sarà un po di window dressing i gestori abbelliranno i loro portafogli ciò nonostante qualche titolo ce lo andiamo a guardare lo stesso e cerchiamo di capire se possiamo trarne qualche auspicio il primo è johnson and johnson andiamo a vederlo qua lo vedete johnson and johnson è un titolo che ha un'attuale resistenza molto forte sul livello evidenziato con la linea rossa questo livello è un livello particolarmente importante se il mercato dovesse portarsi sopra questi valori beh sarebbe allora decisamente interessante ci sono altri titoli che in qualche modo rappresentano una situazione altrettanto interessante qui abbiamo walmart che dopo avere rotto una forte resistenza ha fatto una bella operazione di pullback sulla stessa con recupero del livello quindi anche questo un grafico abbastanza interessante andiamo a vedere altri titoli americani che hanno grafici particolarmente interessanti queste marshall mcclellan che supera una forte resistenza con la chiusura della settimana e quindi si presenta in un contesto particolarmente interessante anche la stessa apple diciamo nel giorno di venerdì è andata a farsi l'ennesimo massimo storico lo vedete e qui attenzione lo dico si vede molto bene l'effetto del buyback guardate con che linealità il titolo sale si vede benissimo questo questa cosa che si vede su due titoli l'altro è meta perché anche su meta questi gap sono solo gli earnings lo vedete qui sotto altrimenti il l'effetto del buyback è chiarissimo e lo si vede in maniera molto molto chiara andiamo a vedere se ci sono altri titoli che come dire possono avere grafici abbastanza interessanti questa roper technology lo vedete è in odore di breakout quindi altro titolo che si muove bene passiamo ora a dare un'occhiata a quella che è la borsa italiana vediamo il ritracciamento attuale rispetto a quei massi minare 28 mila che si sta avendo nelle ultime sedute a piazza affari ciò nonostante noi abbiamo un sacco di titoli a piazza affari che viaggiano in trend come dire caratteristicamente laterali guardate amplifon che da mesi si muove all'interno di un massimo minimo ben specificati adesso sta tornando verso la parte bassa ma questa cosa succede anche sulla stessa azimuth non c'è bisogno nemmeno di segnalarlo massimo e minimo lo vedete qui per un trend laterale diciamo così davvero davvero importante allora andiamo a vedere quali sono i titoli invece che hanno una discreta forza relativa anche rispetto diciamo così agli ultimi giorni del listino non proprio ottimali allora prima 2a che ha una grande forza relativa nonostante lo stacco e si ripropone non lontano da quel da quell'area 1 71 che rappresenta la resistenza un altro titolo sicuramente è ferrari che come dire nonostante tutto è sempre lì sempre a fare nuovi massimi storici sempre pronto a sparare verso l'alto quindi altro titolo estremamente interessante un altro titolo che secondo me l'ho già segnalato da un paio di settimane ha un grafico nuovamente interessante è diciamo ivg cioè iveco guardate come ha rotto diciamo così la trendline ribassista cioè ciò che teneva bloccato il titolo e come si trovi nei pressi di una resistenza diciamo così dopo averne violata già una e quindi chissà magari proprio andare per l'ennesima volta a una vera e propria inversione da questo punto di vista ci sono titoli che si erano comportati molto bene e che invece adesso magari stanno un po ritornando indietro ma chissà se il dip sarà nuovamente da comprare sembra un po pronunciato un po troppo pronunciato rispetto a quelli che abbiamo visto in passato a livello di però chissà magari potrebbe essere lo aspettiamo per vedere se ci sarà una reazione da questo punto di vista altri titoli interessanti sono unicredit che ha rotto a rialzo quest'area di resistenza intorno ai 1970 tiene comunque anche la soglia psicologica dei 20 a rialzo quindi interessante titolo abbiamo leonardo titolo che non è tra quelli migliori a livello grafico del listino però superasse questa resistenza chissà potrebbe andare a puntare alla chiusura del gap creatosi poco sopra un altro titolo che potrebbe come dire muoversi in un laterale che potrebbe anche sfociare in un'uscita verso l'altro vedete qui il chiaro laterale è inuit poi come posso dire in qualche modo due parole le merita anche brembo titolo non appartenente dal listino principale ma che la scorsa settimana è sceso molto tanti annunci tante cose sono state dette guardate che cosa succede a livello di volumi scambi record e soprattutto guardate come il titolo si muove all'interno di un box attenzione sotto questa soglia sarebbe tutto estremamente più difficile quindi direi abbiamo visto tante cose in un contesto di mercato particolare dove il mercato potrebbe prendere qualsiasi qualsiasi direzione bisogna stare attenti e il pericolo c'è soprattutto su siti titoli come dia sorin che abbiamo visto spesso protagonista anche di rimbalzi ma qui siamo sulla soglia di un supporto che è fondamentale soprattutto se io vado indietro nel tempo guardate che cosa rappresenta questa soglia di livello per dia sorin e quindi attenzione perché se il titolo dovesse rompere questo livello lo aspettano supporti decisamente più in basso molto rilevanti area 80 e poi area 70 appena sotto 80 e appena sotto 70 ma siamo molto lontani attualmente intorno a 96 quindi attenzione alla tenuta di questo livello perché sarebbe una rottura estremamente significativa con questo per questo settimana e tutta la prossima ciao